Benvenuti nel mio canale. La notizia di oggi è il GF VIP 7 partirà a settembre ed ormai manca solo un mese e mezzo alla primissima puntata. Tutti i fan del reality non stanno facendo altro che cercare di capire da chi sarà composto il cast, chi saranno i futuri vipponi e cosa accadrà nella casa più spiata di Italia. Tra i nomi ne spicca uno, si tratterebbe in questo caso di un ritorno e chissà quanto sarà gradito. GF VIP 7, tornerà proprio lui, il cast del GF VIP 7 sta prendendo forma. Chi varcherà la famosissima Porta Rossa? Chi saranno i nuovi protagonisti del reality? Nasceranno nuove storie d'amore? Queste sono domande che si stanno ponendo da settimane ormai tutti fan del programma. Del resto, da quando è finita l'edizione 6, si è iniziato subito a parlare della 7. Ma non solo, perché in realtà anche dell'ultima edizione si continua a parlare comunque ancora. I protagonisti alcuni nello specifico continuano ad essere molto discussi. Che alcuni ex vipponi siano entrati nel cuore di moltissimi italiani è ormai certo, ma lo è anche che molti di loro sono stati anche tanto criticati. Tra questi nello specifico ce n'è uno, che di recente ha anche ammesso che potrebbe anche tornare e far parte quindi del GF VIP 7. Ecco di chi si tratta, l'ex vippone in questione è Alex Belli. Entrato nel GF VIP 6, uscito, tornato, uscito di nuovo, l'attore ha scritto la storia dell'ultima edizione del reality, complici anche sua moglie Delia Duran e Soleil Sorge. Il loro triangolo amoroso, le loro vicende, i loro litigi, hanno innegabilmente tenuto banco per sei lunghi mesi. Quello che è successo dopo è ormai chiaro a tutti, Belli è rimasto con sua moglie Delia, con cui sogna oggi una famiglia ed i suoi rapporti con Soleil sono stati ridotti ormai all'osso. E così l'ex vippone, intervistato da Superguida TV, ha sia fatto chiarezza sui suoi impegni televisivi, sia parlato di un'eventuale partecipazione al GF VIP 7. A proposito del primo punto ha detto che in realtà, sebbene ami molti tale e quale show, non ha mai avuto alcun tipo di trattativa e poi a settembre ha altri impegni. Quali siano, non ci è dato saperlo però momentaneamente. A proposito del secondo punto, invece, ha detto, posso tornare quando voglio. Se c'è una cosa che mi contraddistingue è il fatto che nella mia vita non ho mai rinnegato nulla di quello che ho fatto. Sposo appieno tutti i progetti e sono felice di poter ritornare anche solo per un cameo. Insomma, Alex Belli non sarà nel cast del GF VIP 7, ma potrebbe tornare in una veste, inedita, giusto per qualche giorno. Se sarà davvero così però, lo scopriremo solo a settembre. Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione.